Due incendi a due chioschi sul lungomare di Latina, il prefetto ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, Mauro Scano. Due incendi di chioschi sul litorale in poche ore, l'ultimo a urne ancora aperte per mandare un messaggio intimidatorio a un anno esatto dalla scadenza delle concessioni demaniali affidate nel 2018 dal Comune di Latina, destinatario il nuovo sindaco, a prescindere da chi fosse uscito vincitore dalle elezioni. Un gesto grave che ha spinto il prefetto a convocare immediatamente il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a cui ha partecipato anche Matilde Celentano in uno dei suoi primi atti da sindaca. Sicuri dover dare delle risposte e le daremo sotto il profilo della sicurezza non soltanto per assicurare i responsabili di reato ma anche per sviluppare quella fiducia su quel litorale che è un elemento di economia molto importante per Latina e noi vogliamo dare fiducia agli operatori e soprattutto garantire quest'estate che venga svolta in serenità per tutti. Il Comitato ha deciso che i controlli delle forze dell'Ordine sul litorale, già aumentati negli ultimi giorni, saranno implementati dall'utilizzo di telecamere e dalla collaborazione con la polizia locale. Tra i temi sul tavolo anche il censimento e la bonifica dei siti industriali dismessi dopo il grave episodio della violenza sessuale e i danni di una minorenne all'interno di un edificio abbandonato a Latina Scalo. Stavo già mettendomi all'opera per effettuare delle operazioni di bonifica dell'ex Svar e già fra oggi pomeriggio o domani incontrerò i dipendenti di ABC per un'opera di bonifica e di pulizia e c'è già un accordo quadro.